Prepari tutta la partita durante la settimana, fai tutte le cose per bene, poi dopo due minuti ce la siamo complicata da soli. Mi dispiace per Live. Sono cose che possono succedere, però poi la partita si fa più complicata. Però siamo stati bravi a rimetterla in piedi il primo tempo, nonostante abbiamo avuto i primi dieci minuti ancora un po' di adattamento dopo il gol, però poi il primo tempo l'abbiamo fatto bene. Miracoli ha fatto un gran gol, un gran movimento, una gran palla di guerra, proprio l'ha guardato e ha fatto veramente un bel gol. Il primo tempo loro ci hanno creato forse un'occasione, ha tirato Piovanello in area e poco altro. Per me abbiamo fatto un gran primo tempo, a parte i primi dieci minuti, dove potevamo anche ribaltarla subito. Il secondo tempo per me siamo partiti un po' molli, non siamo partiti come abbiamo finito il primo tempo, potevamo fare di più. Poi normale l'espulsione ci ha messo in difficoltà, è stata un'ingenuità, peccato, perché poi Guido è un giocatore super intelligente, peccato per l'ingenuità, peccato. Uno in meno fai più fatica a giocare, a creare, però loro non ci hanno creato niente, anzi abbiamo avuto noi due presupposti per far gol, due occasioni dove potevamo segnare. Abbiamo tenuto bene il campo anche in dieci, però è normale che sia un po' più difficile. Ci teniamo anche perché la prima l'abbiamo persa, poi ci abbiamo vinto a tavolino, quindi ci teniamo a far bene, ci teniamo a passare e sicuramente ce la metteremo tutta per farlo. No, è normale che avevamo la voglia e anche c'erano i presupposti per far più punti. La prima di campionato è andata come è andata, però poi a Seregno abbiamo fatto una gran partita, abbiamo meritato la vittoria. Oggi secondo me abbiamo fatto errori nei singoli, però c'è una partita che si può vincere, in cui abbiamo rammarico di non averla portata a casa.